GRITCAP WOOOOO Ho Chris Axis Turbo? Sì Vabbè, qui il campo si paga in anticipo agli spiccioli Ah, ho solo persi da 500 Davvero? No, mi puoi anticipare 5 euro per il campetto? Poi qualcuno ha lo shampoo? Raga, un paio di pantaloncini in più che son senza Uno Oh, gioco con te! Oh Tocca a te andami in porta Oh Vesto un altro turno io Non mi ringraziate Ma alla fine il decimo chi è? E' un mio amico bassino, dribbling ubriacante, atletismo stratosferico Ah, mi sono strappato scusate non ce la faccio Ma perché non salti mai? Sono giapponese Oh Passa, passa, passa Passa, passa Passa, passa Ma che fai? Cosa fai? Si ma vatterà? Ma che discorso è? Pirla ma sei un co... Vieni qua che ti faccio un... Eh alla buon'ora eh ciccio E che saranno mai 40 minuti di tardi? Trovo la pibottiglia Che c'è accede? Si Quindi il decimo che hai trovato è un portiere Si 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 è il muratore polacco che fa i lavori sotto casa Facciamo la distinta com'è che si chiama? Ehm... Bella partita bravo Grazie grazie Oh come me gusta la pizzetta Oh Se sono scordati le cozze Me fan cazzar quando se scordano le cozze Wow Ginnà Ragazzi lo marco dietro qui lì Ehi ciao Hai perso la mamma? L'uscita è la Ragazzi chi è che ha perso un bambino? Dai dobbiamo giocare per favore Dai esci esci E di là Il nome è... W... 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 Aia Scrivi Gennaro Gennaro? Gennaro Cognome? Gennaro Andiamo dai Ragazzi le scuole sono squilibrate Dai vado io con loro Vado io con loro oh non lo sopporto nessuno lo sopporta neanche sua madre lo sopporta dai dai ce l'ho ripensato dai bravi oh sto squillando no io con lui non ci parlo ho chiuso basta bene giochiamo in nove dammi qua pronto Mauro? pronto ascolta non è che oggi potresti gentilmente giocare con noi? no raga non posso proprio non posso no amore non mi sto nascondendo sto parlando con un call center non posso proprio sono anche a Disneyland ah no? vabbè nel dubbio bravo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti